Bentrovati. Alla fine di maggio, a Roma, in una libreria affollata fino all'inverosimile, il sociologo Pino Arlacchi presenta il suo ultimo libro, Gli uomini del disonore, alla presenza di personalità di primo piano, come ad esempio il ministro degli interni Scotti, il ministro di grazia e giustizia Martelli, il capo della polizia Parisi e il dottore Paolo Borsellino. Alla fine dell'incontro, alcuni giornalisti chiedono a Borsellino se si è interessato a correre per la guida della cosiddetta superprocura, ovvero di un nuovo apparato investigativo creato da Giovanni Falcone. Borsellino smentisce seccamente e, a quel punto, in modo del tutto inaspettato, il ministro Scotti dichiara che sarà lui a candidarlo. Borsellino risponde con un silenzio carico di rabbia e di sgomento perché non è stato consultato prima e perché con quella fuga in avanti rischia la sovraesposizione, cioè rischia di divenire un bersaglio vivente. Di conseguenza scrive al ministro Scotti per declinare gentilmente il rituale invito. Il ministro riceve la lettera e la trasforma in un documento riservato, per cui Borsellino ha rifiutato ma nessuno lo sa. Dopo circa tre settimane dalla strage di Capaci, il governo, in una conferenza stampa dai toni solenni della storia, decide di mostrare il pugno di ferro adottando una serie di incisive misure anticosche. Primo, il 41 bis, il carcere duro per i mafiosi, che spezza ogni legame fra il carcere e tutto ciò che sta intorno per evitare che i boss possano continuare a dare ordini dal carcere. Secondo, protezione e sossegno economico per i collaboratori di giustizia, in modo da incentivare il loro contributo, che è davvero prezioso, perché solo loro possono svelare dall'interno i segreti profondi di Cosa Nostra. Terzo, l'abolizione dei benefici penitenziari per imputati e condannati per reati di mafia. Quarto, si decide di potenziare di 2000 unità l'organico del corpo della polizia penitenziaria. Intorno alla fine di giugno, una domenica, Borsellino si trova con la moglie a Fiumicino, in attesa del volo che li porterà a Palermo. Si avvicina il ministro della difesa Andò, siciliano socialista, il quale gli chiede di appartarsi per discutere di una questione molto delicata. In sostanza, Andò chiede delucidazioni a Borsellino riguardo a una informativa dei Ross che parla di Borsellino, del giudice Antonio Di Pietro e del ministro Andò come possibili bersagli dello stragismo mafioso. Borsellino, tra secola, è imbarazzato, infuriato, perché non ha idea di questa nota riservata che è stata spedita alla procura di Palermo. Infatti, Giammanco, il capo della procura di Palermo, non gli ha detto nulla. Così, l'indomani, Borsellino, adirato in una maniera incredibile, fa eruzione nell'ufficio di Giammanco. Giammanco, sferra un gran pugno sul tavolo, talmente forte che ancora si fa male. Urla, si indigna, perché vuole affermare con nentezza il suo preciso diritto a essere informato di tutte quelle notizie che lo riguardano. Allora, il primo luglio del 1992, Borsellino si trova a Roma per interrogare un nuovo collaboratore di giustizia di peso. Si tratta di Gaspare Mutolo, boss di Partanna Mondello, ex autista di Totorrina e ex compagno di Cella di Totorrina. Le sue rivelazioni appaiono scottanti, nel senso che si tratta di accuse che colpiscono il cuore delle istituzioni colluse. Se quello che dice Mutolo è vero, alcune figure di spicco delle istituzioni, anziché fare la lotta a Cosa Nostra, andrebbero a braccetto con Cosa Nostra. E in particolare uno dei massimi dirigenti dei servizi segreti, Contrada, è il giudice Signorino, il PM, cioè quello il quale ha sostenuto l'accusa durante il maxiprocesso. Questo interrogatorio viene interrotto da una telefonata. Borsellino deve andare al Viminale perché si insiede il nuovo ministro degli interni, Nicola Mancino. Di questo incontro noi abbiamo tre resoconti. Il primo, quello di Gaspare Mutolo, il quale ci dice che quando Borsellino torna da questo incontro appare sconvolto, talmente teso da fumare due sigarette alla volta. Secondo questa versione, Borsellino gli avrebbe riferito di aver incontrato il ministro degli interni, Nicola Mancino, il capo della polizia Parisi, ed avere visto anche Contrada. Poi abbiamo una seconda versione dei fatti, ovvero quella del giudice Aliquo, un collega di Borsellino che lo accompagna fin davanti all'ingresso dell'ufficio del ministro. Secondo il giudice Aliquo, Borsellino non manifesta nessun particolare segno di nervosismo e inoltre il giudice esclude di aver visto il dottor Contrada. E poi abbiamo la versione del ministro Mancino, il quale non ricorda di aver incontrato Borsellino e tuttavia non esclude che ciò possa essere accaduto, perché trattandosi del suo primo giorno al Viminale ha incontrato un numero infinito di persone. Chissà qual è la versione di Paolo Borsellino.